C'è un percorso di innovazione continua che dura ormai da 7 anni insieme ad Alterna nella realizzazione di diversi progetti in ambito IT a partire dall'implementazione della soluzione IRP basata su tecnologia Microsoft Dynamics per poi arrivare alla multicanalità di vendita con delle soluzioni di business to business e business to consumer arrivare poi a una definizione di quelli che sono gli ambiti di analisi dei dati attraverso delle soluzioni di business intelligence sempre basate su tecnologia Microsoft attraverso l'utilizzo di SQL Server per poi finire con un importante progetto molto innovativo basato su iPad per la realizzazione del digital showroom e l'order entry che consentirà di abbattere notevolmente i costi di gestione del catalogo e del campionario Tutto questo ha consentito a Sigi di governare la complessità aziendale con delle soluzioni Microsoft e con la collaborazione del partner Alterna